L'anziano fragile e la sua famiglia. Questo sarà il titolo di un convegno che realizzeremo il 27 giugno a Cagliari, principalmente rivolto per una figura professionale fondamentale nella capacità di intercettare i bisogni e i desideri delle persone, i bisogni e i desideri delle famiglie e costruire progetti di cura adeguati, gli assistenti sociali. Questo convegno porta con sé anche sette crediti, ma qual è il motivo per il quale vale l'impegno scegliere di esserci? In questo convegno rifletteremo su come si crea un vero e proprio piano di cura per le persone, come è importante la figura dell'assistente sociale rispetto al coordinamento degli OS e del personale che poi in qualche modo va a domicilio e diventa il braccio della realizzazione e della possibilità di traghettare quella famiglia o quella persona da una situazione all'altra. Rifletteremo quanto sia importante pensare a una cura che non sia solo la somma di prestazioni, vai e pulisci la casa, vai e fai il pasto, quanto piuttosto reali obiettivi che danno risultati sulla qualità della vita di quella persona e quindi rifletteremo come dietro a delle azioni ci sono sempre motivazioni più amplie e ci sono sempre indicatori di risultato che dobbiamo darci e dobbiamo imparare a misurare. Molti soldi vanno nei servizi domiciliari, dobbiamo cominciare a costruire un sistema capace di tracciare i bisogni, definire il piano di assistenza ma definire anche i risultati in qualche modo delle prestazioni e degli interventi che andiamo a fare. Dentro a questo viaggio rifletteremo ancora proprio sulla differenza tra essere o fare cura, su indicatori di risultato o indicatori di processo, sulla metodologia della visita domiciliare e quindi della costruzione del progetto di assistenza domiciliare individualizzato per quella persona e per quel suo nucleo familiare. E quindi perché esserci? Perché alla fine di questo intervento che sarà guidato da me e dalla dottoressa Giulia Albano, assistente sociale e felicitatrice del sentimento modello, tornerai a casa con sette cose concrete da agire subito nel tuo servizio. Ti aspetto, ti aspetto a Cagliari al 27 giugno per vivere insieme questa esperienza. A presto, ciao!